Maria di Magdala si recò al sepolcro. La Maddalena va al sepolcro, non porta nulla e nulla spera. Cerca una tomba, la vede aperta e paradossalmente annuncia non che la pietra è stata tolta, ma che hanno tolto il Signore. Il greco usa lo stesso verbo. La Pasqua è già iniziata, ma non tutti la vedono. Le grandi tensioni internazionali ci allarmano, ma sotto la crosta di una storia vecchia corrono sommessi tanti gesti d'amore, scintille di futuro capaci di incendiare il mondo.